Ha chiesto la parola la deputata Laura Castelli, ne ha facoltà. Massimo 14 minuti. Grazie Presidente, intanto ringraziamo i colleghi che parlano tanto di confronto e di dibattito su questo tema che sta a cuore a tutti e poi non vedono l'ora di prendere le gambe e andare via. Compito di uno Stato sovrano a cui sta veramente a cuore l'interesse del Paese prima degli interessi particolari, dovrebbe essere quello di vedere con chiarezza le difficoltà oggettive in cui versano tutti i giorni i propri cittadini e su tale analisi fare una scaletta di priorità per indirizzare adeguatamente le scarse risorse economiche che in questo Paese vengono malutilizzate. Ecco, questo del TAV è uno dei pochi casi in cui lo Stato può fare ancora politica economica e decidere dove vuole investire le proprie risorse finanziarie, che appunto dovrebbero essere rivolte a risolvere le difficoltà primarie del Paese. In questo caso lo Stato può veramente esercitare il suo ruolo e decidere quali sono veramente i problemi reali del Paese su cui spendere le scarse risorse a disposizione. Allora la domanda che sorge spontanea è, ma la realizzazione del TAV è davvero un'opera che risponde alla domanda disperata di aiuto che il Paese sta gridando a gran voce su tutti i fronti? È davvero la migliore idea di sviluppo che vi viene in mente? Nel documento dal titolo TAV Torino-Lione, domande e risposte del marzo 2012, presentato dal precedente governo, si evidenzia che il TAV dovrebbe creare nel futuro migliaio di posti di lavoro. Un investimento di quasi 8 milioni di euro per ogni addetto che lavori per 7 anni. Beh, 7 anni sono un quinto di una vita lavorativa. Questo significa investire 40 milioni di euro per ogni posto di lavoro. Ma ci vogliamo chiedere, quanti interventi a favore dell'occupazione, della sanità, dell'istruzione pubblica si potrebbero fare utilizzando diversamente tali cifre? E ci vogliamo chiedere quanto sia sostenibile un tale indirizzo nelle condizioni attuali? Usiamo pure le vostre unità di misura, il PIL, la crescita. Siamo sicuri che non ci sia nessun altro settore che genere PIL e crescita? Ma a margine di questi grandi numeri sul lavoro, vorremmo anche chiederci quanto si può legittimare del lavoro quando questo è ampiamente inquinato dalla criminalità organizzata, mafia, andrangheta e camorra. E soprattutto quando questa si intreccia con i grandi appalti, grandi appalti fatti da imprese dei grandi cantieri che si impiantano come un paese autonomo su un territorio. Ricordiamo la CMC, la Martina? Vi ricordano qualcosa? Alcuni di loro hanno anche ricevuto condanne. Oppure potete leggere i loro bilanci e cercare dentro il bilancio della CMC se ci sono dei riferimenti di alcuni partiti, di alcune segreterie di partito. Fatelo voi, noi l'abbiamo fatto. Il maggior quotidiano piemontese, nello stesso giorno in cui annunciava l'arrivo del ministro degli interni per decidere l'apertura forzata e forzosa del cantiere della Maddalena, commentava nelle pagine a fianco una grande operazione dei carabinieri del comando di Torino sotto il titolo «Le mafie minacciano anche le grandi opere». Beh, io lo trovo davvero buffo. Io a questi attori sì che darei l'olio di ricino. Noi vorremmo sapere, se vi sembra normale fare un'opera forzando legalità e verità, vorremmo sapere se si può smettere di dire che i lavori sono oltre la metà. Non è vero, veniteci voi a guardare questi 20 metri di tunnel. E smettiamole di raccontare che il TAV è un trenino da viaggiatori. Non è un trenino da viaggiatori, non ci facciamo le stazioni nei comuni con il TAV. Sono giorni che è ripresa la cantilena che ce lo chiede l'Europa. Per una volta sarebbe veramente il caso di dare retta all'Europa quando ci dice di eliminare gli sprechi e destinare la spesa pubblica esclusivamente agli impiegni produttivi. Da tutte le voci fedeli alle raccomandazioni dell'Europa si grida autorevolmente che la disciplina del rigore e del controllo della spesa pubblica resti ferrea. Questo in un paese normale significherebbe investire in un'opera altamente efficace e produttiva a volte a risolvere situazioni allarmanti come le condizioni in cui versano le piccole e medie imprese e il sistema dell'occupazione del lavoro. E invece si continua a individuare il TAV come opera primaria di urgenza e necessità. Forse che il governo ritiene poco attendibile lo sforzo fatto da ben 360 ricercatori professionisti in cui si evidenziano chiaramente come nelle realizzazioni dell'opera non ci sia nessun vantaggio economico per il paese, nessuno, soprattutto dal punto di vista del capitale investito. E voi siete i primi che finanziate le opere con il project financing. Queste cose dovreste saperle. Per parafrasare il Presidente Letta che nel suo discorso di insediamento diceva per cominciare bisogna recuperare decenza, sobrietà, scrupolo, senso dell'onore e del servizio. Infine la banalità della gestione di un buon padre di famiglia. Ecco, ci chiediamo, un buon padre di famiglia, se avesse delle risorse a disposizione, non le impiegherebbe per pagare i propri debiti come quelli che lo Stato ancora ha nei confronti della pubblica amministrazione? Non è forse più scrupoloso e decente onorare i propri debiti sapendo che così facendo si salverebbero dal fallimento di imprese e famiglie? Non dovrebbe essere colpito compito di uno Stato che a senso dell'onore e del servizio rendersi conto che la priorità è la salvezza dei suoi figli in veste di piccole e medie imprese prima ancora che la realizzazione di un'opera che fa acqua da tutte le parti? Ecco, se fare politica economica per uno Stato vuol dire fare una giusta e un'ecoallocazione delle risorse finanziarie a disposizione, sicuramente ci sono destinazioni ben più urgenti e prioritarie rispetto al TAV. Beh, poi ho sentito accusare in quest'Aula cittadini di aver soprato e deturpato il territorio manifestando. Beh, è lo Stato che ha ucciso e ammazzato un territorio fertile e bellissimo come la Valsusa. Vorrei chiudere ricordando al Ministro Lupi, che ovviamente non è in aula, è il Presidente Letta che manco ci pensa, che sono mesi che gli amministratori locali chiedono insistentemente un momento di riflessione tecnica. Perché non è possibile delegare un osservatorio di parte che diciamo ce lo fa acqua da tutte le parti e non crea mai contraddittorio con altri tecnici del settore. L'unico rapporto che la pubblica amministrazione riesce ad avere con i tecnici e gli amministratori è quello per proporgli misure di compensazione. Solo questo. Ovviamente misure di compensazione clientelari. Caro Ministro, che non c'è, lei vuole fare al più presto questo accordo con la Francia. Proseguo sul suo intervento. Il Governo è presente. Il Governo è rappresentato, quindi lei prosegua. Caro Governo, lei che vuole fare questo accordo con la Francia, beh, chieda all'Europa se ha messo negli impegni i soldini necessari a quest'opera e glielo chieda, perché queste condizioni sono necessarie per fare questo accordo. Ci preme concludere ricordando le parole dell'ex giudice imposimato, che diceva ci vuole una certa dose di coraggio e uno stomaco robusto per leggere corruzione ad alta velocità, viaggio nel Governo invisibile, ma è un'occasione per guardare in faccia la realtà. Lo scandalo del TAV è l'emblema della degenerazione globale del sistema politico. Esso ha coinvolto maggioranze e opposizioni in ugual misura. Dopo Tangentopoli non è scaturita una Repubblica rinnovata, ma una riedizione peggiore del vecchio sistema di potere. sia organicamente strutturata l'alleanza tra ceto politico e forze dominanti del potere economico, delle grandi imprese, sia private che pubbliche. Beh, noi vi chiediamo di votare la mozione, chiaramente, ma di avere il coraggio di guardare negli occhi gli italiani, spiegargli che per voi il TAV è l'opera che è veramente importante in questo momento, e poi di vergognarvi. Grazie. 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 Ha chiesto.